In classifica generale spianando dunque la strada del successo in questa edizione del Baretti alla Juventus che è già a quota 3 deve affrontare gli Stati Uniti di Milutinovic, formazione largamente rimaneggiata, mancano 6 o 7 titolari ma vediamo Battistuta, prova la rovesciata, il gran numero di Battistuta finalmente all'altezza della sua fama con questa prodezza, la rovesciata è stata di Battistuta, eccolo qui, bel numero ancora, certo non da ricordare per la correttezza in campo, ci sono stati ben 3 espulsi Baiano e Effenberg per la Fiorentina, intanto una splendida rovesciata di Battistuta sul punteggio già di 1 a 0 per la Russia, Russia che ha dovuto giocare in 10 per l'espulsione di Mok molto agonismo, anche troppo, determinazione eccessiva, Fiorentina che voleva vincere questo trofeo Baretti formazione largamente rimaneggiata, mancano 6 o 7 titolari, ma vediamo Battistuta, prova la rovesciata, il gran numero di Battistuta